Oggi presentiamo la lista della provincia di Teramo, abbiamo sette candidati molto forti di cui siamo orgogliosi ma soprattutto siamo orgogliosi del progetto che ci ha visto dietro il professor D'Amico che è la figura giusta. Abbiamo elaborato un bel programma, molto di stampo ideologico, operativo, ma soprattutto che traccia una linea molto ferma su quello che deve essere il futuro dell'Abruzzo. Allora diciamo che in campo politico quasi tutti perché sono quasi tutti consiglieri uscenti, consiglieri comunali che noi reputiamo l'esperienza più bella e più formativa per fare politica. Poi ci sono persone che vengono comunque dal mondo della pubblica amministrazione quindi a livello amministrativo sono preparate o chi addirittura ha un posto nell'area marina protetta nel consiglio d'amministrazione quindi sa benissimo quali sono le dinamiche sia politiche che amministrative.